Mancano due giorni alla sfida delicata contro il Catania, lo stadio Massimino tabù per i lupi da ormai 75 anni. Domani Mr. Pazienza in conferenza stampa presenterà il match con un Avellino che dovrà fare i conti, con qualche defezione e qualche acciacco. Sarà il tecnico però a fare chiarezza sui convocati e sull'ultimo allenamento. La rifinitura particolare domani perché dal comunicato della Curva Sud emerge la grande voglia di caricare la squadra dopo il divieto di trasferta in terra siciliana. Il comunicato del tifo biancoverde recita la Curva Sud comunica che sabato 28 ottobre alle 10.30 sarà presente all'allenamento presso la tribuna Montevergine dello stadio Partegno Lombardi incitando la squadra e facendo sentire ai calciatori il calore che ai noi mancherà loro nei 90 minuti di partita in terra etnea. Per questo motivo la Curva chiama a raccolta tutti gli amanti del lupo dimostrando ancora una volta il nostro grande amore per l'Avellino e per Avellino. Sarà certamente un bel momento ulteriore per far capire ai calciatori quanto calore possa dare la piazza vellinese trascinante e dominante in situazioni del genere con la formazione di pazienza ora al secondo posto sulle due lunghezze dalla vetta. Da valutare ci sono Gori e Casarini non al top della condizione. Il tecnico pugliese opterà nuovamente per la difesa composta da Benedetti, Rigione e Moulet con Ricciardi a sinistra e Cancellotti a destra. E' a centrocampo che bisognerà capire chi vincerà il ballottaggio tra Casarini e Palmiero con l'altro ballottaggio d'Angelo Varela sempre vivo. L'uruguaggio infatti sembra avere bisogno di rifiattare un po'. Davanti sembra certa la coppia Sgarbi-Marconi.